allora ragazzi ve lo dico subito io sono veramente convinto che oggi si beccherà il psg ma proprio 101 per cento l'ho detto anche ieri su twitter in questo momento siamo così fortunati che se ci casca il pisello ci rimbalza dritto dritto nel sedere e questo spiegherebbe anche il perché il celsi ha pareggiato per 3 a 3 all'ultimo secondo contro lo zenith io ho sempre detto in realtà che avrei preferito quest'anno una squadra forte agli ottavi il problema è che io guardo le seconde del girone forse quella forte quella che spero è l'atletico madrid a questo punto mi auguro l'atletico madrid vi dico così mi auguro l'atletico madrid credo che sarà il psg è anche vero che si ci sta a prenderne una forte ma forse il psg in questo momento è un po troppo forte ma se prendiamo il psg sono contento anche di prendere il psg perché tanto ormai ragazzi che dobbiamo confrontarci dobbiamo confrontarci se esci col psg hai non dico la scusa la giustificazione ma sicuramente sono favoriti loro e se invece lo butti fuori che bella sensazione che non ci credo non succede ma se succede ma se succede ma guarda sono più per il classicone atletico che anche qua è più probabile con l'atletico uscire che no ma tanto negli anni siamo usciti un po con tutti quindi chiunque verrà fuori dall'urna bene o male sarò contento e sarà comunque da rispettare da non sottovalutare perché negli ultimi anni veramente abbiamo detto più volte dai questa era la migliore che poteva capitare ed è andata come è andata quindi vanno bene tutte dalla più forte alla più scarsa perché tanto il problema della juve la juventus stessa benfica real via real via real contro via real manchester united e noi infatti è impossibile stavo dicendo era nello stesso che figura di merda che figura di merda incredibile da vicenda era la finale dell'anno scorso di europa league ha giocato quest'anno insieme ah beh allora è un manchester se non è un manchester è un altro atletico di madrid ecco qua ciucciamo noi questo ciucciamo noi questo no noi ci giucciamo il psg sicuro oppa la la oppa la la atletico bayern e pesantina eh iniziano ad essere poche iniziano ad essere psg o sporting psg o sporting per la juventus non so in questo momento sinceramente quale delle due vorrei tirare su che l'inter sicuramente non siamo noi e beh l'inter diciamo che è anche l'inter potrebbe sculare incredibilmente attenzione all'il attenzione all'il intanto si è tolta tutte quasi le più forti l'inter probabilmente le più forti se le tolte tutte l'inter è contenta forse o becca ronaldo o l'ex dei miracoli o l'il l'ajax dei miracoli e vi dirò che non è impossibile per l'inter si decide tutto qui si decide tutto qui non so se voglio il psg non so se voglio il psg non lo so se lo voglio non lo so se lo voglio il psg non so se voglio il psg non so se voglio il psg nel momento della verità non so se voglio il psg mamma mia dipende da noi adesso dipende da noi o sei ancora coglione che non hai imparato niente in questi anni o vai ai quarti Chelsea Lille e PSG Manchester Messi Ronaldo Messi Ronaldo Messi Ronaldo incredibile Messi Ronaldo agli ottavi di finale bellissimo Messi Ronaldo agli ottavi di finale fantastico che cosa vi posso dire è ovvio che ad oggi in questo momento in questo preciso istante lo avrete visto anche dalla reazione di quando davvero c'era il PSG nell'area nell'area non so quanto avrei davvero voluto il PSG mi sarebbe andato bene l'Atletico il PSG forse era troppo per questo momento della Juve lo sport è che è un avversario abbordabilissimo il problema di fondo è che non esistano avversari abbordabili che la Juventus è il suo primo nemico quindi sarà la Juve a decidere se andrà ai quarti di finale oppure no secondo me ha la possibilità per farcela la Juventus ha la possibilità per arrivare ai quarti di finale dipende da loro dipende da loro perché negli ultimi anni veramente ci siamo mangiati troppe possibilità con questa rosa e con questo avversario io credo ai quarti però devono essere concentrati devono fare la partita che devono fare Allegri deve leggerla bene ci sono troppe variabili sicuramente è una delle più abbordabili che c'era da tirar su dipende da noi oltre a dire che dipende da noi che siamo il nostro peggior nemico non so che altro dire concludo dicendo che secondo me arrivare ai quarti di finale con questa Juve è sicuramente un obiettivo grandissimo sarei super soddisfatto anche perché dopo quasi sicuramente ti vai a beccare una forte ai quarti vedendo un po' gli abbinamenti che ci sono stati forse la più grande partita di tutte è Paris Saint Germain e Manchester United tutte le altre sono con una favorita sopra le altre beh anche Atletico Bayern che potrebbe esserci qualcosa anche Inter Ajax è combattuta beh degli abbinamenti abbastanza interessanti vedo il City e il Liverpool e il Chelsea già avanti le altre non dico che siano tutte aperte perché sicuramente da qualche parte dipende di più però però ovviamente in Champions sappiamo che è sempre la tripla beh certo che pensiamo di passare il turno certo sarebbe grave pensare il contrario per quanto mi riguarda certo che sì certo che sì che pensiamo di passare il turno se poi finirà come l'anno scorso è un altro discorso cioè io spero che che si inizi a imparare dagli errori perché se non inizi a imparare dagli errori allora ti meriti davvero di andare a casa agli ottavi ancora l'hai fatto per troppe volte di sottovalutare gli avversari troppe volte l'hai fatto di sottovalutare gli avversari devi aver imparato qualcosa e se non hai ancora imparato qualcosa vai a casa e te lo meriti molto semplicemente e aggiungo alla fine del video questo piccolo pezzettino perché ho già letto qualche commento su Twitter quindi mi metto avanti per quello che arriverà è ovvio che tra virgolette sono più contento perché se devi sperare nell'urna benevola è una delle squadre migliori che poteva capitarti poi certo anche loro dall'altra parte stanno festeggiando perché avrebbero potuto beccare squadre più grandi indubbiamente io ribadisco forse avrei preferito una più forte non il PSG perché forse eravamo a dei livelli un po' troppo alti ma l'Atletico secondo me era intrigante poi è ovvio che se dobbiamo fare una valutazione sul momento della Juventus perché qualcuno mi ha detto ma non riusciamo a vincere con il Venezia abbiamo faticato con la Salernitana non facciamo gol certo tutte allora tutte tutte quelle che potevi tirar su erano problematiche se dobbiamo valutare il momento di questa Juventus questa Juventus fa fatica con tutte quelle che poteva tirar su indubbiamente però se dobbiamo avere una speranza per andare avanti sicuramente lo Sporting è una squadra che se riusciremo ad arrivare in forma in quel momento se riusciremo a preparare bene la partita se 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 è più facile da affrontare rispetto al PSG questa è la mia opinione poi è ovvio che in questo momento siamo un po' scottati e ci ritroviamo a dire frasi assurde come spero di beccarne già una forte agli ottavi proprio perché negli ultimi anni abbiamo sottovalutato quegli altri ed è naturale penso che sia fisiologico proprio perché abbiamo paura di rivivere le stesse emozioni però in una condizione normale non avremmo mai pensato dire spero di beccare l'Atletico piuttosto che lo Sporting lo stiamo dicendo per cercare di mantenere alta la concentrazione sin dagli ottavi cosa che negli ultimi due anni non è stata buona però io penso a tre anni fa che becchi l'Atletico passi nel modo in cui passi una roba assurda quest'anno sicuramente irripetibile o almeno c'è sempre quel famoso un per cento di possibilità che accada poi ai quarti becchi l'Ajax lo vai a sottovalutare l'Ajax era più forte di te giocava un calcio migliore del tuo più efficace del tuo è andata avanti e quindi da lì è nato questo continuo cercare di mettersi nella testa che non vanno sottovalutate gli avversari ma è giusto che sia così nello sport nel calcio è sempre giusto che sia così proprio perché poi abbiamo visto anche l'altro giorno col Venezia inizio il secondo tempo pensando di aver vinto la partita se hai vantaggio solo di un gol gli altri te la pareggiano tu non hai le forze di rimetterle in piedi quindi è ovvio che è difficile anche lo Sporting per questa Juve non sono qua a dire che sicuramente la Juve passerà il turno però tra PSG e Sporting perché erano le due che erano rimaste fuori in questo momento storico e considerando le difficoltà della Juve penso che sia naturale essere più contenti di aver beccato i portoghesi piuttosto che i francesi però questa è la mia opinione sono curioso sia per la vostra io non sono così negativo o così pessimista sul fatto di passare il girone in questo momento proprio perché sulla carta tra le due che potevano tirare su abbiamo beccato quella un po' più abbordabile ma sottolineo le grandi difficoltà della Juventus anche in Italia con squadre più oneste lo abbiamo visto è sotto i nostri occhi abbiamo fatto due punti in cinque partite tra Empoli Venezia Sassuolo Verona e Udinese quindi per forza di cose dobbiamo stare sull'attente sul chi va là però sogno di passare il turno e di arrivare ai quarti di Champions che secondo me a livello europeo sono l'obiettivo stagionale non posso sognare niente di più anche vedendo poi le altre squadre che potremmo andare a beccare penso che eventualmente passando questo turno sarà difficile andare avanti però sognare è bello proprio per questo forza Juventus grazie a tutti grazie a tutti